Supermicroscopi, in grado di rendere possibile l'osservazione di dettagli biologici finora mai rilevati. A sviluppare questo nuovo progresso tecnologico per la biologia cellulare e soprattutto per la diagnostica medica, ricercatori italiani, capaci di una risoluzione molto maggiore rispetto agli attuali microscopi ottici, i supermicroscopi offrono, oltre alle immagini, un metodo per misurare le dinamiche di singole proteine e micromolecole all'interno delle cellule. E proprio grazie al nuovo metodo, i ricercatori sono stati in grado di mettere a fuoco le particelle virali delle epatite B, che posseggono un diametro di 50 nanometri, individuando dettagli associati al trasporto di proteine all'interno del nucleo di una cellula, completamente nascosti allo strumento convenzionale.